Il calcio è lo sport per la promozione del territorio. Confindustria Benevento, con la sezione turismo e tempo libero, ha illustrato ai giornalisti nella sede di Piazza Colonna il pacchetto turistico Weekend a Benevento, quando calcio e turismo fanno squadra. Un pacchetto pensato e scritto in collaborazione con gli studenti del capologo dell'Istituto Alberghiero Le Streghe. Il pacchetto turistico è dedicato a tutti i tifosi che arrivano nella nostra città, che da questo momento in poi chiameremo ospiti. Quindi questi ospiti potranno scegliere di effettuare un pernottamento in città e scegliere di pernottare in una struttura extra alberghiera, quindi in bed and breakfast, affittacamere o in alberghi tre stelle o quattro stelle. Questa è una città di Benevento, ma abbiamo delle confezioni anche in provincia con altre strutture. All'arrivo gli viene consegnato un pacchetto, che è un pacchetto di benvenuto realizzato con un contributo del Comune di Benevento, dove all'interno troveranno una cartina, troveranno un voucher per discontistica sui servizi che possono comunque ottenere in città. C'è un voucher per quanto riguarda il servizio navetta, dove noi andiamo a prenderli in albergo, facciamo un servizio fino allo stadio, li aspettiamo per riportarli in albergo, in più i biglietti in tribuna gratissimi a disposizione dalla società Benevento Calcio. Il calcio è uno sport che piace e attira tanti appassionati, ma anche un veicolo, uno strumento per promuovere le bellezze locali, un fenomeno sociale e di aggregazione. C'è molto interesse su questa iniziativa, che è stata nel corso dell'ultima visita del presidente della Lega a Bodi, apprezzata molto anche ai vettici della Lega, tant'è vero che a Bodi mi confessava che loro stanno provando a fare la stessa cosa a livello nazionale con le altre società. Nella frase in cui diceva, mi auguro che molte società prendano esempio da Benevento, era da chiuso anche un apprezzamento per questa iniziativa. Devo dire che il Confindustria da Benevento, più che il Benevento Calcio, ha avuto un'ottima intuizione, perché anche il riscontro con quel poco che abbiamo potuto fare allo stadio in questo periodo è stato molto positivo, in quanto chi sta venendo allo stadio a vedere la partita, parlo degli ospiti di qui e di fuori, sta avendo parole di grosso compiacimento per l'iniziativa e per la città.